C'è un po' di così anni fa, vabbè. Sei anni e... Io non ce l'ho da follow, ma è stato il mio canale perché è automatico, no? Eh no. Come andate a finire prima con il reglio? Ho perso, purtroppo, Sniper. Purtroppo abbiamo perso il game. McManory. Noi abbiamo già male, Snapsy, vabbè. Ci concentriamo sul prossimo game, noi dovremmo pensare a quello prima. Vecchio saggio direbbe I am Major I was. Guarda che capoccia che c'ha, Riot. Oh, 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 oh. Oddio. Fammi pensare, fammi pensare. Bro. Tac, tac. Non mi ringrazia. Oh, e zitti, madonna, quanto che rompete le pali. Chiudate la bocca. Vabbè, non rompete i blogger. Ormai spokeriamo, però, bro. Ma non rompete i blogger. Ma non mi ringrazio. Ma non è proprio scato. Vogliamo fare ieri le golle, eh. buono non do che il suraga non do che 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 ora ci siamo oddio ma è possibile se io ho un item in più che fa danno rispetto a lui gli ho fatto un giro dei skill che è 10 il suo e ha vinto lui il trade e io livello 3 lui livello 2 com'è possibile questa cosa c'è qualcosa c'è si riesco se ho vinto il scroll deve essere distruttato troppo attenti dobbiamo pure guardare ok c'è catalyst ce l'abbiamo tra poco volendo però mi piacerebbe fare il scappettino anche se il danno mi servirebbe prima chiudiamo catalyst meglio e più danno abbiamo prima chiudiamo roe e più danno abbiamo ogni giorno vi ho delle strutture dove non c'è la 5-6k boh quel gruppo delle cara non sono sdimentiato che bucio ma chi? il mio gruppo delle grandici? se poi arriviamo con lente ce lo prendiamo un po' di mana easy easy ok di farlo siamo messi bene brava se Giovanni ottimi gank e tu ci la head non è male per niente casi sbot casi sbot casi sbot casi sbot wow il 99% delle volte eh ma se scherzi sempre metti uno ma ciò sapete qual è la volta in cui non scherzi capito? cioè I am the one who knocks I am not in danger Skyler I am the danger capito? io non sono in pericolo Skyler io sono il pericolo non sono in pericolo non sono in pericolo non sono in pericolo I am not in danger Skyler I am the danger forse c'è la ulti mister fresco con il quattro mesi delle sub fresco bella bro oh gucciolone beautiful grazie per il supporto fresco e ribanvenuto nelle cani di cane ma perché devo essere sempre quello che viene esitato porca la madonna scusami fresco per la bestia e mi sembra un tabiatolo fastidio grazie per il supporto fresco di melhoro delle cani di cane sir Che fastidio Sempre quello che deve essere esitato Perché il mio jungle non fa lo stesso Il mio jungle non capisco Tiperemo qua Possiamo essere un obege Non si dicono le bestimie Però cosa mi fa prendere il culo E poi la botte vince loro La botte vince loro La mid vince Nonostante c'è caso Se questa gank è solo qua Questa è una seconda molto fastidio Perché in turno se a caso Sta top Dovremmo prendere i nuovi draghi La botte nostra dovrebbe vince Error per loro Botte nostra perde Don't carry Arrì eccolo Arrì eccolo Quasi quattro anni Quasi quattro anni Manfro Sono un bel po' quattro anni Oh Botte Divince Oh Sì Ma che sto Guarda La season 4 Ma magari Certo Tipo Se tu puoi sbagliare Le levate E poi le hai dimesso Non te la conta Come la prima Che avevi messo Capito Certo sto game bro Casi Stars Tano top Lo sto distruggendo Distruggendo Certo game E non lo vede Di vincere adesso Me lo ricordo che si Alpe Doppie Q Scudino Love it Ah E poi Che cazzo Si muestra A bot side Dove Sì Deve Quella A bot side Se no Ah ok Manfro E non è più Recuperate E non lo vede Non lo vede Buono, thank you. I like it. I like it, karma. Mirabula è morta che ha anche dato... Oddio. Ora dovrebbe avere il TP in Toria. Come su? Ben tornato, moarte. buono hai visto? ho due gank di karma due volte morto un altro forse vorrei prendere sta torre perchè sennò prendono il loro bot in modo caso si gioca sicuramente può stare di nuovo, prende drago possiamo gridarla qua magari prende sta torre Twitch non si sa che sta a fa dipende da quello che voglio fare stermi dipende dalla mia intenzione archangel very soon prendiamo le feeble guarda oppa sta andando mid andiamo pure con l'archangel quasi chiuso con la tier quasi pulmana e morde per me da solo perchè nessuno va a coverare quella cazzo di torre si dovrebbe andare a Twitch roba c'è un dragione basta che c'eva qualcuno cano R allora che cazzo di comune sti cassi raga bravo topione abbiamo bei danni vado a dare una stagione perchè potrebbe essere civile che tocca di un pre palle ok nice si stiamo un'altra settimana poker appunto secondo lo schedule piange il pronta poi andiamo di rapata devo pure l'anel spirit di rapata non già pronta questo è giusto abbiamo già una delessi pronta per i tabaton qui c'è sta artroland cioè vedi come è possibile sta cosa andrebbe essere proprio possibile così rinodo a fantastico ea bellissimo no 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 ma che come sono morto c'ho lo scudo what I had the shield like the flash due tre torre eh ma c'ho ah ma c'ho un altro tre torre dici dopo non ci ho fatto caso vabbè non l'ho fettata lei comunque un po' likey un po' likey un po' likey un po' likey vabbè it's ok it's ok Siamo belli strong chill we chillin we chillin we chillin we chillin ci diamo rabbadon dopo rabbadon dopo rabbadon dopo rabbadon potremmo fare frozen heart solo perchè voglio dare una rottura delle palle o animo di zonimo non è un problema no schippi tra poco dobbiamo ancora staccare la roa stacchiamo tutta la roa ragazzi e gl eh ci do un livello in più praticamente ok tra boton pronto andrò verso botte con tp up per come ci sarà il nasher mmm qua è interessante capicosa possibilità che non è stato rakan o di me che mi ricordo non mi ricordo devo dirti la verità non me lo ricordo manca tutte sapi per tornare 300 tra l'altro ragazzi quindi se vuole supportare il top king per la 300 with light se no amen amen se no che sta a fare questo rato qua e zonia c'è una pincozza qui va bene vuole fermare lui qua non 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 ma non 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 c'ho troppi danni contro lui, dobbiamo come foistoff un po' di foistoff se mi hai creduto che dopo essere uno ti metti a ridere è quasi una risora esterica oddio mica mi ricordo non lo so c'era una cosa che stava regalando a bobo, non l'ho vista io a me sempre Manu oddio mo' mi è stato preoccupato però allora dunque su telegram ragazzi ho messo su telegram ragazzi ho messo lol sul telegram degli investimenti un link tramite Nexo che si è acquistato di crypto fino a da 100 dollari in su le regalano 25 dollari di bitcoin e anche a me penso che servano 100 persone, 2k e mezzo di me ma c'è un'altra cosa grazie Yabba di Mica mi ricordo che ho luogo casco 10 anni fa Sì ma è venuto Sicuramente te ne manca una sega Ma hai capito? Eh quindi non Doesn't count Ma io voglio venire da un ca L'ho distrutto L'ho distrutto Non c'è solo io sto fight Ione ha fredato tutto Ancora lì Dando pure il blu Una vip a settimana E come sta andando Koji? Che sta? Cade oggi Cocca Non l'hai presa bene Eh no cazzo 13-2 sto Zero gank top da parte di 6 giovani Per l'evento ho giocato da solo E manco E manco me lascia il coso Ma che sei stupido Spermiogramma bro No io ancora lo devo faccio però E comunque prima dello spermiogramma devo fare lo spermiocoltura Quale è la mia nuova fiamma Naim? Spermiogramma 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 Il medico mi ha detto che Lo spermiogramma serve a vedere Quanta fertilità ha Nel spermiogramma Provera pure per controllare La tua fertilità Ma perché Non è tanto perché fa male o meno Ma perché c'è 20 anni Se è giovane Se c'essimo di 50 Mi fregava un cazzo a nessuno Capito? Però la spermiocultura La fia prima dello spermiogramma Perché può rilevare Se hai delle infezioni nello sperma Se sono presente Le infezioni nello sperma Lo spermiogramma potrebbe essere falsato Quindi non c'è senso farlo Ho giocato malissimo questo fight Ho giocato malissimo il fight Un po' distratto Non c'è un cazzo A me il big fight Drago perso Infezioni di che tipo? Non lo so che tipo di infezioni È semplicemente di rileva Se ci sono delle infezioni O meno nello sperma Se non ci sono infezioni Poi puoi fare lo spermiogramma Perché non è falsato al 100% Cioè è sicuro al 100% Mentre se tu non fai prima Lo spermioculture E vedi che Non ha infezioni Lo spermiogramma Poi risulta falsato La cosa mi ha spiegato il medico Buono buono Arrivo Lo fa anche lì Perché bro? No Non c'è ok champ micoplasma genitalium ah facciamo l'infertilità è bene sapere se ho lo sperma infetto povere cucciole vabbè ma l'infezione non credo che sia una cosa che questo non lo so sinceramente ma non credo che sia un'infezione che si possa passare cioè che sia solo interna a te ora non so sicuro sinceramente ti do di la verità sì quindi è bello tranquillo bro assolutamente nel chilling